Buongiorno dopo l'appuntamento di Ferragosto, dopo la pausa di Ferragosto torna l'appuntamento più atteso, più seguito del mattino alle 7.30 c'è la rassegna stampa, diamo un'occhiata ai giornali come di consueto e allora lo faremo tra un istante, prima però guardiamo il tempo e il santo di oggi, il santo di oggi è una santa, Santa Giovanna della Croce fondatrice questa santa ha fondato la congregazione di Sant'Anna della Provvidenza, il sole è sorto alle 6.15 e tramonterà alle 20.10, il tempo per oggi sarà un tempo buono su tutta la costa adriatica, vedete c'è il sole con temperature lieve aumento nei valori minimi, avremo un po' di vento e il mare sarà poco mosso, per la giornata di domani venerdì 18 agosto ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionare o addirittura lieve aumento, i venti saranno a regime di brezza, il mare sarà poco mosso. Per la giornata di sabato, quindi il fine settimana, il cielo sarà sì sereno ma qualche nuvoletta un po' di più ce ne sarà sulla provincia di Pesorubino e non si escludono nella tarda serata sul settore settentrionale della regione, quindi nel pomeriggio di sabato anche delle precipitazioni, saremo magari più precisi nella giornata di domani quando arriveranno i modelli più aggiornati, per il resto sabato avremo temperature in aumento, i venti saranno ancora moderati, il mare sarà poco mosso ma mosso dalla serata. I primi giorni della prossima settimana si prevede tempo stabile. La prima pagina del resto del Carlino, l'edizione di Pesaro, titola così, morte in paradiso, Ettore Arceci, 64 anni, storico ottico di Montecchio, muore precipitando per 400 metri dalla cima della vetta della Val di Fiemme in Trentino, Alto Adige, stava facendo una passeggiata, il corpo è stato ritrovato ieri mattina, vedete la zona del Lago Rai fotografata dalla stessa vittima, poche ore prima dell'incidente. La vittima è questo signore qua, che appunto è molto conosciuto a Montecchio perché ha gestito, c'è ancora un negozio di ottica che porta proprio il suo nome. Questa è la fotonotizia in prima pagina. Poi Ferragosto violento in discoteca, ragazzo picchiato dal branco, dopo l'orrore in Spagna crescono la paura e i controlli, è successo fuori dalla Baia Imperiale a Gabice, ferito all'occhio con dei cocci di bottiglia, un altro invece è stato spinto giù per la scalinata, adesso indagano i carabinieri. Poi allarme invece per il Rossini Opera Festival perché tante poltrone vuote e il barbiere del 2018 è firmato da Pierluigi Pizzi. A Fano invece, vedremo tra poco nelle pagine interne alla Profilglas c'è stato un altro incidente, un operaio si è bruciato il volto e le mani, mentre non si fermano i messaggi di cordoglio per Don Giorgetti, il funerale è stato rimandato a domani. Mentre sempre a Fano, in prima pagina sul resto del carrino, il gran finale è tutto dei ladri. Al Bastione Sangallo sono entrati, hanno rubato l'incasso della rassegna, Repubblica appena finita, bottino di 4 mila euro. La pagina di Urbino invece apre con le cifre da record per la festa del Duca in città, ben 60 mila persone in tre giorni. Crespini dice il nostro gruppo ha dato prova di enorme organizzazione, eccoli qua, orgogliosi. Al centro c'è anche Francesca Crespini, dicevamo, con il gruppo che ha organizzato l'edizione 2017 della festa del Duca. Il giornale pubblica anche tutti i numeri vincenti per assicurarsi 18 premi messi in palio. 5.200 le presenze al Palazzo Ducale nei giorni dell'evento, appunto. E sempre con la festa del Duca apre anche il Corriere Adriatico. Vedete, questo è il titolo, festa del Duca con il botto, boom di turisti e di visitatori. Andiamo sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. Paese dei Balocchi e protezione civile tra insegnamento e sogni dei bambini. Questa sera a Bellocchi di Fano c'è la 14esima edizione. Al posto di Curcio, che ha rassegnato le sue dimissioni qualche giorno fa, arriva Oreficini, un altro di quelli che della protezione civile ha dato l'anima alla protezione civile. Il sindaco è Silvestro Montanaro, il sindaco dei Paesi dei Balocchi. Domani racconterà la storia, una bellissima storia che vale la pena davvero di ascoltare, di Thomas Sankara. È una storia tutta da scoprire. Oggi a Fano debutta, questa la lasciamo un attimo da parte, allora vediamo un po', eccola qua, scusate, la leggiamo. È oggi debutta la festa del mare, quattro serate tutte da gustare, musiche buonissimo, pesce al centro sociale, Santinelli di Ponte Sasso. Avevo fatto un po' di confusione con la festa del mare che già c'è stata, pensavo al refuso, invece no. C'è la festa del mare a Ponte Sasso. Ride nella notte al Sangallo, al Bastione, ecco la fotografia in versione notturna, colpo da 4.000 euro e sono stati fatti anche dei danni, perché poi si sa in questi casi i ladri per entrare non è che aprono con la chiave e di conseguenza fanno anche dei danni. Razzia al Bastione, scardinato l'ingresso, rubati con tante materiale tecnico usato per la manifestazione Repubblica. Poi sull'attentato che ci riguarda, cioè l'attentato a Fano TV, Fabio Di Lucera, 32 anni, residente a Valefoglia, originario di San Severo, è stata disposta all'immediata carcerazione da parte dell'ufficio di sorveglianza. Dunque Di Lucera, che secondo le indagini sarebbe l'esecutore materiale dell'incendio, dell'incendio qui a Fano TV, adesso è stato portato in carcere. Secondo gli inquirenti il mandante sarebbe l'ex candidata al Consiglio regionale, Antonella Zaccarelli. E poi cortocircuito, ustionato un operaio ennesimo infortunio alla Profilglas, quadro elettrico in tilta alle 18.45 di ieri, ferito grave un elettricista esterno però all'azienda della Profilglas. E sul balcone di casa invece spuntano le tre moire in ferro. Singolare installazione in via Togliatti, il proprietario dice ci piaceva la loro bellezza e così guardate le ha installate, le ha messe queste tre moire sul balcone di casa. Quindi chi passa da quelle parti in via Togliatti, siamo sempre a Fano, potrà vedere appunto questo balcone opera d'arte. Dalla Valle del Cesano invece nessuno sfratto per i carabinieri, ci sarà l'accordo sulla caserma, avviso pubblico per la ricerca di un immobile, ma la sindaca Pedinelli smorza ogni allarme. Mentre in via della Luna sono state domate le fiamme, un principio di incendio intorno alle 12.15 di ieri, che però è stato subito, le fiamme sono state subito domate. A Senigallia invece rapinati da tre extra comunitari, due ragazzi vittime di un agguato al parcheggio dello stadio, strattonati e derubati di una borsa, il secondo caso dopo l'aggressione alla festa hawaiana. C'è un testimone che racconta, dice in zona ha agito una banda, le urla della coppia hanno attirato l'attenzione dei residenti, poi hanno dato l'allarme e dunque indaga la polizia. C'è anche un minorenne tra i ladri di Richaud, sette denunce dei carabinieri, nei guai pure un pirata fuggito dopo un incidente. E sempre da Senigallia, barista vende alcol a minorenni, un padre lo scopre pedinando il figlio nel locale, folla di giovani, sbronza garantita con due euro a bevuta, il papà detective dice chiusura per, si auspica la chiusura per chi sgarra. La prima pagina del Corriere Adriatico invece è per la tragedia in Trentino, in vacanza cavalese, dove ha perso la vita Ettore Arceci, 64 anni, storico ottico, montechiese, trovato senza vita ai piedi di un dirupo profondo circa 300 metri, a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, lo cercavano dalla sera prima, dopo l'allarme lanciato da un amico che lo attendeva per la cena a Malga Sadonale. La foto invece sulla prima pagina del Corriere, giovane turista aggredita, bottigliate, agabice la movida di Ferragosto finisce nel sangue, i carabinieri sulle tracce di un gruppo di italiani che hanno assalito un francese e il suo amico. C'è anche, naturalmente sono le pagine di sport, si parla anche dell'aumento che non è piaciuto ai tifosi del basket, della WL, Costa ribadisce però e si spazientisce un po', dice sono assurde le critiche nei confronti, nei nostri confronti, noi stiamo facendo dei miracoli, quindi insomma qualche sacrificio bisogna farlo un po' tutti quanti, questo per quanto riguarda il ritocco appunto agli abbonamenti per vedere il basket pesarese. Andiamo adesso invece sulla prima pagina di Pesaro del Corriere, riapriremo le strade in sicurezza sul San Bartolo, dopo il rogo si lavora contro il rischio delle frane, sentieri da recuperare e anche per prevenire altri roghi, intanto la fotografia del Corriere è sulla spiaggia ai piedi della Falesia bruciata del Colle San Bartolo, Castel di Mezzo, da parte di Comune e Provincia ci sono fondi per poter intervenire sul tratto che scende a mare. Via San Francesco, sempre a Pesaro, si riapre, si riparte, da oggi si lavora alla parte finale dell'intervento, il Comune conta di concludere entro un mese il cantiere, è stato affidato alla ditta che ha ultimato la riqualificazione lungo corso 11 settembre, ci sono queste iniziative prese senza consultazione che hanno fatto un po' arrabbiare, ecco perché è stato rescisso il contratto. Parliamo della morte di Don Giorgetti, casa destinata all'accoglienza, l'ultimo sogno di Don Giorgio, ospiterà famiglie bisognose, aperto anche un conto corrente per raccogliere i fondi. Dunque, troppo piccola la chiesa di San Cassiano, la sua chiesa, per contenere le tantissime persone che sono accorse per il rosario in memoria di Don Giorgio morto nel giorno di Ferragosto, tanti parrocchiani, amici, conoscenti e quant'altro. Don Giorgio è deceduto, stroncato da un infarto, mentre tra l'altro si recava alla stazione in sala la sua bicicletta e dunque le esequie si terranno domani mattina alle 10.30 in Duomo. A presidere il funerale sarà l'arcivescovo di Pesaro, Monsignor Piero Coccia. Le ultime pagine le andiamo a vedere sempre sul Corriere Adriatico da un'arquata all'altra. Viaggio per i terremotati, Tappa d'Urbino per la carovana di aiuti partiti dal Piemonte. Perché in Piemonte c'è una località che lo stesso si chiama Arquata. E quindi cosa è successo? Che questi cinque temerali, cinque di questi ragazzi, pensando ai colleghi di Arquata del Tronto, che però è andata giù col terremoto, hanno deciso di percorrere a piedi tanti chilometri raccogliendo dei fondi. E vedete, qui ci sono questi cinque ragazzi con l'assessore che a Urbino li ha accolti, li ha rifocillati, li ha fatti sistemare anche in palestra per la notte, eccetera, eccetera. Quindi una bella storia per raccogliere fondi. E ci sono anche le tappe che continueranno questi giovani. Si parla di tappe che toccheranno Cagli, Pergola, Arcevia, Cupramontana, Cingoli, Macerata, Civita Nova Marche, Fermo, Campofilone, poi li vedrete a Doffida e infine arriveranno ad Ascoli Piceno. Chi vuole aderire a questa iniziativa, chi vuole fare una donazione, può fare anche, usare il conto corrente e qui sul giornale il Correo Adriatico. Questa mattina c'è anche il conto IBAN, quindi si può fare un bonifico. Ok, sulla pagina di Fano del resto del Carlino, per concludere, ladri al bastione, colpo mirato, bottino da 4.000 euro, l'associazione Rembò dice non ci fermeremo, è stato portato via l'intero incasso, oltre ad alcolici e anche a delle attrezzature. Poi ieri è stato lanciato un allarme per topi d'auto in azione a Torrette, molti sportelli di automobili sono stati forzati, avvistamenti sospetti nella zona, sul posto è intervenuta anche la polizia. E poi un paziente che è morto al Santa Croce di Fano, sono stati donati corne e reni. Mentre sulla pagina di Pesaro e Pian del Bruscolo, addio ad Alberghetti, imprenditore storico, guidò per 40 anni l'azienda di Legnami e fu stimato arbitro. Il giorno di ferragosto ha 89 anni e se ne è andato per oltre 40 anni, ha guidato l'azienda dei fratelli Alberghetti Legnami, situata in strada adriatica, lascia la moglie Rosanna e figli Alberto Andrea, oltre a tanti nipoti. E dunque finisce fuoristrada l'altra notizia a Santa Maria dell'Arzilla, scompare poi nei campi, mistero su chi guidava quest'auto, che vedete nella fotografia, che ha sbandato ed è finita nell'erba. Il conducente è svanito nel nulla. Don Giorgetti, il funerale sarà domani, come dicevamo, alle 10.30 al Duomo di Pesaro e poi vedete Beato Sante in trionfo organizzato un grande evento. L'abbraccio di padre Tommaso a Bartocetti, presidente del Proloco di Monbaroccio. Mi pare che più o meno ci siamo. L'ultima pagina la lasciamo per Fano, dove si legge Rossini sale sul carro, sarà la star del carnevale, il cigno di Pesaro scelto come attrazione del 2018, e i carristi esporranno alla pescheria. E probabilmente qualcuno storcerà il naso, perché ancora una volta Pesaro entra con tutti e due i piedi su Fano, insomma c'è qualcosa che evidentemente, ma non è che non va, però insomma tutte queste, però lasciamo stare, adesso non facciamo polemica. Comunque Rossini sale sul carro e sarà il protagonista del carnevale di Fano 2018, 2018 anzi, e i carristi esporranno alla pescheria a Pesaro. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.